Alla 22esima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, la Romagna protagonista grazie a Visit Romagna. In particolare questa mattina si presenta il progetto Romagna Empire, ma non solo. Certo, voi sapete che la Romagna si presenta come un territorio unico, un territorio che presenta un'offerta anche turistica di grande importanza e vastità. Quest'oggi andiamo a presentare questo nostro interesse di lavorare proprio sul turismo storico archeologico. I collegamenti sul territorio sono infiniti, chiaramente abbiamo costruito degli itinerari ad hoc, da Ferrara, Comacchio, Ravenna, passando per Sarsina, la città Plautina, Bagno di Romagna con le terme storiche e romane, fino al passaggio del Rubicone con Savignano e chiaramente l'approdo su Rimini. Ci collega tantissimo ovviamente il mare, per cui abbiamo costruito itinerari che riscoprono anche la storia lungo il mare, l'antico porto di classe, da cui ovviamente Augusto ha poi portato flotte commerciali e militari. Ha una storia, per esempio, legata a un naufragio su Comacchio che col Museo del Delta Antico ci riporta questa storia con la scoperta di una nave e soprattutto del suo contenuto completamente integro. Abbiamo lavorato insieme partendo da un progetto europeo che ci univa, Air Culture, un progetto Italia-Croazia, che ha dato origine a due luoghi fondamentali per la nostra promozione. Sono i Visitor Center, uno appunto a Rimini, lungo il corso d'Augusto, che ci permette di scoprire la Rimini romana e tutti i legami e le vie consolari che da Rimini partono e che appunto possono far conoscere tutto il nostro territorio. L'altro Visitor Center è presso l'antico porto di classe. Sono Visitor Center multimediali, ci danno la possibilità anche attraverso una semplicità di attività e di coinvolgimento sia delle famiglie, dei bambini e dei grandi interessati alla storia e all'archeologia di scoprire appunto il nostro territorio. In questo modo il Museo di Classis, a classe appunto di Ravenna, parte appunto di questo percorso e ci accompagna nella scoperta della Ravenna antica. Oggi abbiamo portato alla borsa del turismo archeologico anche proprio un'offerta commerciale. Attraverso i nostri operatori del territorio presenteremo un'offerta 24, 48, 72 ore per poterci appunto inserire nell'offerta commerciale del turismo storico archeologico dell'Italia.